Dietro l'altare, in fondo alla navata, l'immagine della Madonna con bambino riapparsa alla fine del XIV secolo, quando un assestamento dell'edificio spostò un muro che la copriva. Un evento considerato miracoloso, tant'è che i fedeli costruirono una nuova chiesa in stile rinascimentale. Era come se Maria volesse appunto comparire, essere visibile e allora hanno pensato bene di costruire questo santuario della Madonna del Castello. È un affresco romanico, la sua particolarità è l'utilizzo di questi colori forti che normalmente non vengono utilizzati, anche delle figure molto stilizzate come per esempio le gotte di Maria che sono degli ovali, una rappresentazione con un viso severo. Con la mano sinistra indica Gesù che viene portato invece in braccio con la mano destra. Questa è proprio una rappresentazione per indicare Maria che fa capire qual è la retta via, la via da seguire che è la parola di Gesù. Parte da qui, dal santuario della Madonna del Castello, il sentiero del Romanico, un itinerario tra Almenno San Bortomeo e Almenno San Salvatore in Valle Imagna alla scoperta di cinque chiese. Questo itinerario si snoda attraverso l'antico Lemine. L'antico Lemine era già abitato ai tempi preistorici, da un museo cielo aperto dall'arte romanica e post romanica. Questo territorio era molto importante, vitale per Roma perché essendo un nodo commerciale militare, data la presenza del ponte dell'Emine o della regina Tadolinda sul fiume Brembo e il ponte del Tarchì sul torrente Tornago. Un percorso ad anello di circa due ore tra natura e antiche mulattiere scandito dalla visita delle cinque chiese. La più famosa per la sua forma cilindrica è la rotonda di San Tomè, una pieve rurale della prima metà del XII secolo. Al suo interno i capitelli sono ornati da motivi geometrici e da figure umane e zoomorfe. Non si può visitare per lavori di ristrutturazione invece la chiesa di San Giorgio dove all'interno c'è il ciclo di affreschi sulla vita di Cristo più antico della Bergamasca. Grazie al contributo del FAI anche nella chiesa di San Nicola ci sono le impalcature. Vengono restaurate le oltre 1500 formelle del soffitto, decorate con disegni di fiori, frutte e animali. C'è anche una figura umana, forse l'autoritratto di chi le ha disegnate. La chiesa fu costruita alla fine del Quattrocento come voto a Dio dopo un'epidemia di peste. È una chiesa con una suddivisione incampate, volute espressamente da famiglie nobili almennesi. Infatti di fronte ad ogni cappella ci sono le tombe dei capostipiti di queste famiglie. È dedicata invece a Santa Caterina la piccola chiesa costruita a fianco di un vecchio monastero. Questa chiesa nasce a fronte di un piccolo convento sorto all'inizio del 1500, 1510, 1512. Il padre di una di queste prime tre suore giovani del paese che si dedicarono alla vita monastica fece costruire anche in annesso una chiesetta. Qua c'era una stalla aperta e a quell'epoca c'era una forte devozione a Santa Caterina d'Alessandria come in tutto il Rinascimento. Infatti Santa Caterina d'Alessandria è ripresa da Michelangelo, da Raffaello. Tutte le sante Caterine che hanno la ruota perché è il suo simbolo e il suo martirio e fece fare ai pittori locali il ciclo di Santa Caterina d'Alessandria con, probabilmente perché non sono firmati, Jacopino e Scipioni.